A tutti noi e alla città intera un sereno Natale e uno splendido anno nuovo e tanta serenità e felicità a tutti. Auguri. Sindaco, primo Natale da primo cittadino, un augurio alla città di Giuliano. Un augurio di pace e di serenità e di crescita. Questa città ci sta piacendo così come in questi giorni, vorremmo fosse sempre così allegra, piena di gente che la vive e per questo lavoreremo. E mi auguro anche che col nuovo anno si possa continuare a costruire e soprattutto che il vecchio anno, questo che non è ancora finito, possa chiudersi bene per tutti e quindi attenzione ai botti, mi raccomando, evitiamo di riempire gli ospedali per giochi stupidi. Sindaco, ieri però c'è stato un brutto episodio in piazza annunziata, è stata danneggiata la stella, che cosa è successo? Un camion in manovra poi ieri sera, mentre smontavano il palco, l'ha fatta cadere, è stata già rimossa, il proprietario del camion ovviamente ha fornito tutti i dati, noi chiederemo il risarcimento anche per la città che ha perso quella stella che era diventata di richiamo e dopo Natale vedremo se è possibile sostituirlo con un altro pezzo. Purtroppo quello era un pezzo unico e per ripararlo dovrà essere mandato in Germania. Che dire, è meglio non aggiungere altro, sono molto poco felice di questa cosa, mentre era molto bella da vedere quella stella in quella piazza. Primo Natale da Presidente del Consiglio, facciamo un augurio alla città di Giuliano? Un augurio a tutta la cittadinanza di un buon Natale e soprattutto che ci aspetta, aspetti tutti quanti un sereno 2016. Che cosa si augura per quest'anno che verrà? Ma che il lavoro ci gratifichi, nel senso che ci dia la possibilità in prospettiva di vedere i frutti che matureranno.